Su Metauriglia noi abbiamo idea di bypassare completamente il traffico di attraversamento su Fano e di dirottarlo su una parte esterna, liberando così Metauriglia perché deve tornare a diventare una frazione dedicata al turismo più che altro e la statale adriatica deve diventare una strada appunto di quartiere. L'idea nostra è appunto quello di bypassare e creare finalmente una circonvallazione, cosa che hanno perduto sia le amministrazioni seriche a Guzzi prima, l'occasione delle opere compensative per creare davvero una circonvallazione di Fano, noi pensiamo di riuscire a crearla comunque utilizzando i 20 milioni che sarebbero stati stanziati dalla regione solamente per fare il collegamento da Fano verso Pesaro. Con il nostro progetto, dei nostri tecnici ovviamente, pensiamo di riuscire a fare in modo tale che tutto il traffico di attraversamento da Fano, quello che viene da Marotta, che va verso Pesaro, passi senza attraversare Fano, cioè da Metauriglia, anzi da Torrette, si vada verso l'interno, utilizzi un po' di opere compensative, poi vada verso Pesaro sempre utilizzando parte delle opere compensative e in fondo una parte di strada che deve essere realizzata con Pesaro. In questo modo le 40 mila macchine stimate che attraversano Fano solamente appunto per attraversamento non andrebbero più ad entasare il centro storico e nello specifico a Metauriglia liberare Metauriglia. Per questo noi mercoledì sera, domani sera alle 21 al circolo Albatros 87 a fianco della chiesa, facciamo un incontro pubblico con i nostri tecnici, io, la Ruggeri, i mazzanti, i più tecnici che hanno fatto questo progetto, proprio per presentare a Metauriglia questa idea di liberare Metauriglia dal traffico.